Il nostro viaggio continua con l'anime, il mistero della pietra azzurra, o Nadia, il mistero della pietra azzurra, The Secret of Blue Water, titolo inglese, e quindi siamo dal ventesimo al ventiduesimo episodio, perché così breve, perché ovviamente il blocco narrativo è quello lì dopo gli ultimi 12-13 episodi, si va verso la fine, e quindi questo è interessante che sia staccato dai precedenti video che ho portato sul canale, ve le metto qua sopra nel link, quindi per andare avanti e spiegarvi il perché è sempre più affascinante, forse questa parte più interessante dell'anime, se vogliamo vi invito a iscrivervi, a supportarmi con il canale, iscrizione, abbonatevi se vi va col tasso qua sotto due caffè al mese, mi sostenete, sono anche sui social TikTok e Instagram, sono ancora un pochino poco sviluppati, ma piano piano, giorno dopo giorno, riuscirò a portarvi con tutti i nuovi, per esempio oggi vedo Madame Web, quindi sicuramente porterò qualcosa nei prossimi giorni, eccetera, quindi supportatemi così, e puntiamo i 1250 iscritti, non manca tantissimo, quindi io direi di incominciare, ma facciamo un riassuntino, è spoiler ovviamente perché se uno non ha visto niente della serie, è spoiler, ma non è spoiler rispetto al video precedente, abbiamo Gian e Nadia incontrati a Parigi, perché Nadia era seguita da Anson Sanson e grandi, strettipi loschi, che sembravano loschi, che volevano la pietà azzura di Nadia, questo ciondolo, si finisce sull'isola di Gargoyle, che è il vero cattivo, perché è un neo-Atlantideo e vuole quella pietra, ma a fronteggiare Gargoyle e neo-Atlantidei c'è proprio Nemo, comandante del Natulus, questa nave super tecnologica, c'è questa guerra fra Nemo, che è solo Atlantideo, diciamo, e Gargoyle neo-Atlantideo, quindi una guerra civile, se vogliamo, fra due, dove ci va di mezzo l'umanità e la società del 1899 di tutto il mondo, quindi c'è questa lotta fra i due, ovviamente Gian, Nadia, Marie, King e il terzetto, Anson Sanson e grandi finiscono sul Natulus e diventano proprio, a tutti gli effetti, combattono contro Gargoyle, e adesso andiamo nella parte più importante, dove c'è lo scontro centrale fra queste due forze, fra queste due potenze, e quindi incominciamo subito. Il mistero della pietra azzurra, ventesimo, ventiduesimo episodio, spoiler, cerchiamo fra cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Partiamo. Bene, questo è il momento più importante, perché dura poco, ma è intenso. E mi è piaciuto il fatto che la narrazione qui evolva in modo molto molto netto, perché divide il Natulus da Gian e Nadia, perché sarebbe stato ridondante mostrare di nuovo un altro scontro con Gargoyle, che è un nulla di fatto, essenzialmente, come abbiamo visto fino a questo momento, Gargoyle, che gioca con Nemo quando potrebbe attaccarlo. Infatti, essendo uno che non è una macchietta, ma un personaggio vero, che potrebbe essere una persona reale, credibile, uno stratega consolidato, attacca Nemo perché adesso si è un po' rotto le balle, scusate il termine, di Nemo stesso. lo vuole morto. E quindi, essendo che, come viene spiegato, sta costruendo tantissimi nuovi sommergibili, i Garfish piccolini e una nuova Torre di Babele, perfettamente senso questa cosa, fallita la prima volta, ci riprova, essendo che ha molto più denaro da spendere rispetto a Nemo, lancia l'attacco finale, se vogliamo. Quello che dovrebbe essere l'attacco finale. Che cosa abbiamo? E qua parte la genialità di questa sezione narrativa, perché, come abbiamo detto, la tecnologia in Missalio della Pietà Azzurra è fondamentale. Ci permette di mostrare gli individui nel loro essere più profondo. C'è Jean, che è un inventore, e c'è chi costruisce delle armi terribili. O Penamere, ho citato l'altra volta. No, qua potete dire lo stesso discorso che fa Mia Zakin, si alza il vento. Cioè, il protagonista di Si alza il vento vuole costruire un aereo per volare, ma poi quell'aereo non serve solo per volare, ma per lanciare delle bombe. Allo stesso modo, tutto questo parte da un errore. È stato fondamentale, l'altra volta, mostrare come sia un crescendo narrativo, il fatto che lui faccia amicizia con i membri dell'equipaggio del Natulus, che gli permettono di fare delle piccole ricerche e sviluppare le sue invenzioni. E abbiamo visto come la sua invenzione abbia funzionato, l'altra volta con quell'aereo con cui vola in cielo con Nadia. Qui lui, un po' per, anche qua la narrazione per smorzare un po', lui sta creando la sua invenzione, noi siamo dalla parte di Jeanne, ovviamente, ma Jeanne commette un errore e, essendo che la serie ci ha mostrato che le sue invenzioni non sono sempre all'altezza, si rompono. Peccato che il rompersi dell'invenzione di Jeanne scateni il fatto che Nemo e il Natulus è stato individuato da Gargoyle. Ecco qua la pesantezza di quella comicità che abbiamo sempre visto e che hannoci appresentato come un elemento distinguibile della personalità di Jeanne. Fare, creare delle invenzioni che non funzionano. Ecco qua c'è il dilemma morale, perché giustamente vengono beccati da Gargoyle, anche se bisogna ridimensionare. Cioè, ci sarebbe stato comunque questo problema. Non è che Jeanne sia il colpevole, è lo stesso Nemo. Spinge su questo, anche Electra non danno la colpa a Jeanne sicuramente, ma dimostra che dei bambini non sono adatti per stare su una nave da guerra. E anche il rifiuto dell'altra volta, che non ho detto mi pare, Nemo che dice a Jeanne che ci tornerà utile anche molto più in là. No, io non voglio che tu diventi uno di noi, perché non voglio che tu uccida delle persone, o comunque che tu non sia coinvolto in una guerra. Ecco, Jeanne commette un errore giusto per la sua età, per quello che sono le sue ambizioni, e il prezzo da pagare è altissimo, perché questa volta il nostro Gargoyle lancia un attacco definitivo. E Nadia qua è un po' fastidiosa, sì, perché prende la difesa del ragazzo rispetto a Nemo, ma è credibile con la narrazione, perché è sempre stata così, ed serve anche per fare lo switch. Cioè, Nadia capisce che Nemo è suo padre, e su questo c'è una piccola critica, e quindi dovrà cambiare idea su di lui. Ok? Quindi funziona benissimo questo gioco. Ecco, cosa succede? Che Gargoyle, come avevo detto prima, esplica quello che è implicito nella narrazione. Gargoyle ha tanti soldi, e investe sulle navi, sui sommergibili, sulla tecnologia, perché è un piano a lungo termine, ok? Ma, perché il Nathalus se la cava sempre? Perché è una nave eccezionale. E ci tornerà utile. Cioè, si capisce che il Nathalus è più forte delle altre, perché per una ragione che verrà spiegata molto bene. E quindi ha perfettamente senso che Gargoyle faccia fatica. E qua che cosa fa? Vuole indebolire Nemo, gli manda addosso 7-8 sommergibili, che vengono spazzati via, no? Perché in realtà è così. Gargoyle, siccome ha scoperto che Nemo è stato trovato, manda dei sommergibili per trovarlo. E Nemo anticipa, giustamente, e dice, beh, vi faccio fuori prima io, visto che voi non sapete esattamente dove io sia. E questo, però, lo espone completamente. E Gargoyle crea un'altra trappola meravigliosa. Cioè, lo ferma in questa fossa, essenzialmente lo tira su con un magnete. straordinario. E da lì il Nathalus non può più scappare. Ok? È fantastica, è straordinaria, proprio questa tecnologia che Gargoyle usa con questa intelligenza tattica. Quindi anche il Nathalus, che è una super nave, anche rispetto a quelle di Gargoyle, e qua non può fare niente. Concentriamoci sulla battaglia e dopo faccio un piccolo flashback, fra virgolette, sui personaggi. Perché chiudiamo questa parte della battaglia. Tante bellissime cose, come il fatto che il Nathalus qua rischi la vita. Per davvero. Complimenti ai titolisti italiani, ma anche giapponesi, che danno il titolo Addio Nathalus, stile Dragon Ball. Addio Goku. Bravi. Complimenti. Spoiler. Così. A gratis, va bene. E il Nathalus davvero non può fare niente, perché Gargoyle seziona la nave di Nemo con queste onde, è lezzo magnetiche, adesso non si capisce bene, per cui non possono neanche difendersi. Ora, è palese che in una storia verosimile, verisimile, qua sarebbe stato la fine del Nathalus. Quindi Gargoyle avrebbe vinto. Ma? Nemo. Ma hanno sceneggiatore, dice no. e quindi Gargoyle non può vincere ora e quindi i nostri si devono salvare in qualche modo e non mi è piaciuto tanto come è stato questo in scena, non tanto quello che è stato fatto, perché sono due i fattori che permettono ai nostri di vincere. Uno, il fatto che il Gratanesca si stacchi dal Nathalus per colpire quello che è l'apertura della nave di Gargoyle e attraverso un colpo di pistola di Samson riescono a permettere al Nathalus di difendersi e quindi di staccarsi da questa fascia di elettricità, onde rezzo magnetiche. Ecco, quella cosa non mi è piaciuta perché ha poco senso. Aveva senso che il Gratanesca salvasse tutti sull'isola di Gargoyle all'inizio della serie. Ma come può essere che un colpo di pistola così poi sparato non so da quanti metri di distanza riesca a fare questa cosa? Mi è stato molto molto forzato come il fatto che Nadia esca sul ponte come per dire a Gargoyle che ci sarà, che ci tornerà utile dopo sicuramente perché lo rifà, spoiler, ma qua non ha senso, esce sul ponte come per dire fermate tutto, sono pacifista, non fatevi la guerra e sta per essere rapita da Gargoyle ma anche qua sta per essere risucchiata portata su, ma si salva si salva essenzialmente perché la nave di Gargoyle sarà colpita da questo proiettile di sanso per cui lei ha mezz'aria a terra da 20 metri e non si fa niente, ho capito che è un acrobata ecco, sono queste le cazzate che non mi piacciono ok, per cui il Natulus affonda ecco, ma non può più fare niente qui è interessante la battaglia perché a mio dire noi pensiamo che sia la fine ma in realtà essendo una grande nave quella del Natulus si stacca in più pezzi ecco, è un po' la bat moto di Batman che si stacca dalla bat mobile essenzialmente per cui la parte che è andata distrutta che sta per esplodere del Natulus si stacca da quelle secondarie fra cui la nave di bordo che è la cabina di Nemo in cui vanno Gian e Nadia ora ci arriviamo e poi una piccola parte della nave dove stanno Nemo e gli altri e questo mi è piaciuto come il fatto che Gargoyle mandi delle navi per finire Nemo che fa esplodere la parte della nave ormai inutilizzabile quindi li faccia fuori tutti mi è piaciuto molto funziona tantissimo poi la musica è epica e queste scene sono bellissime da vedere qua c'è la questione del suicidarsi farsi esplodere così da attaccare Gargoyle che è la proposta di Elektra e andiamo sui personaggi che forse è la parte più interessante ovviamente qua si svelano un po' tutti i segreti della nave perché Elektra è un personaggio grandioso secondo me da tutto il tempo l'abbiamo vista dolce carina con questo sguardo pulito che è fedele alla nave ai suoi ideali a Nemo per cui è un personaggio super positivo se vogliamo in realtà lei è una persona repressa che ha degli incubi ha un passato difficile e per certi versi non è tanto lontana dalla Katsuragi come non è tanto lontano dal signor Ikari il nostro Nemo certo una versione un po' più positiva se vogliamo perché sì lo sono ma non è tanto lontano il modello proprio di carattere e Elektra come si racconta in più momenti della storia come il bagno con Nadia e poi successivamente con il tradimento di Elektra grande spoiler nel titolo sempre sia giapponese che italiano abbiamo che Elektra odia Nemo ma lo ama allo stesso tempo perché è quasi raccontata la storia di Atlantide c'era un vuoto di potere perché il regnante di Tartesso come viene chiamata quindi la prima Atlantide il vero nome di Atlantide Tartesso era Nemo con la sua famiglia quindi Nadia ovviamente la moglie e il principe ereditario ma Gargoyle che era politicante ha preso il potere e voleva dimostrare alla folla e si fa riferimento alle dittature della seconda guerra mondiale perché è quello cioè incantare la folla con grandi proclami la torre di Babele come funzionava la torre di Babele tutti pensavano che Gargoyle avesse fatto esplodere la torre di Babele per qualche malfunzionamento o che fosse colpa sua quindi Electra era uno dei pochi sopravvissuti ma in realtà la colpa è stata proprio di Nemo Nemo pur di portare avanti la sua missione morirà o si spingerà fino a quel punto perché lui è colpevole perché che ha fatto ha tolto la pietra azzura che stava in quella torre di Babele e quella torre di Babele è impazzita distruggendo tutto come abbiamo visto nella parte precedente quando si sono fatti i funerali quindi Electra non è più arrabbiata in realtà per quello perché ha perdonato Nemo ma per il fatto che Nemo si è allontanato dalla sua missione cioè dare la sua vita per distruggere Gargoyle perché Electra dice quando Nathalus è lì in aria perché non ci facciamo esplodere così da colpire anche Gargoyle uccidere anche lui no? e Nemo non lo fa perché vuole salvare Nadia ecco vi ho parlato del fatto che Nemo si era aperto alla socialità negli episodi precedenti qua questa scelta narrativa non solo serve per ravvivare un po' la trama e renderla più simpatica più divertente con delle gag ma ha un peso tragico fondamentale qua la grande scrittura di Anno e chi ci ha lavorato è così che si scrive una sceneggiatura le piccole cose che diventano importantissime nel tempo ecco e qua c'è quella bellissima scena che è una sorta di spiegone se vogliamo ma ha fatto benissimo di Electra che vuole uccidere Nemo quasi ma non ce la fa perché lo ama quindi io chiuderei su altri elementi alcuni riferimenti a Evangelion come il fatto che devono aprire manualmente il condotto per lanciare quel missile poi che permetterà al Nathalus di staccarsi dal plusso energetico della nave di Gargoyle quello è Evangelion puro perché ha visto la serie e sa esattamente sono passati 13 anni dalla esplosione della torre di Babele la prima torre di Babele e quindi questa violenza che c'è nei volti sia di Gargoyle che dell'equipaggio di Nemo è giustificata è una guerra che va avanti da tanto tempo e quindi i personaggi sono cresciuti in quei 13 anni mi è piaciuto molto ah non vi ho detto che si mostra anche qua il il principe quindi il fratello di Nadia infatti hanno la pelle dello stesso colore ed è questo principe meccanico quasi un cyborg anche se non viene esplicitato ed è interessante capire il perché di questo che lo vediamo più là poi ancora la differenza fra Tartesso e Neo Atlantide quindi c'è anche una differenza di nomi e possiamo intuire che la nave di Nemo è super figa perché probabilmente è quella principale cioè quella del regnante di Tartesso va bene abbiamo visto che Nemo conosce l'ubicazione di molte basi segrete di Atlantide perché era il regnante mentre Gargoyle sa conosce quella tecnologia e la sta riproponendo e sono due cose diverse è abbastanza chiaro come concetto e funziona tantissimo sono interessanti le motivazioni di Nemo del perché non si sia fatto esplodere e Electra lo accusa di essere debole davanti a Nadia o sua figlia poi chiudiamo su Nadia ma le parole del marinaio Black di cui non ricordo me il nome non si può vivere di solo odio è una frase bellissima cioè si vive di odio per combattere qualcosa qualcuno per trovare la pace l'amore e quindi ha detto Nemo ha confessato Nemo ad Electra nell'ultimo incontro di questa parte dico che non si è fatto esplodere perché vuole trovare una via diversa e che si sente in colpa per aver fatto esplodere la torre di Babele al tempo quindi ha ovviamente la torre di Babele come espediente narrativo è molto vicino al force impact qua stiamo parlando ecco delle similitudini fra Evangelion e io chiuderei sulla parte più emotiva la scoperta di Nadia che Nemo sia il padre diciamo che è una parte un po' debole della narrazione nel senso che Nadia avrebbe dovuto capirlo più volte uno vorrebbe dire vabbè ma noi abbiamo visto diverse cose abbiamo visto la pietra azzurra di Nemo eccetera quindi lo sappiamo lei come avrebbe potuto intuirlo intanto dai suoi comportamenti poi fatto che la balena abbia detto che lui comunica solo con chi ha la pietra azzurra chi possiede la pietra azzurra e ha già parlato con Nemo ora non è che sono in tanti ad averla sta pietra azzurra la balena gli ha detto incontrai tuo fratello è la persona che cerchi tuo padre ti è molto vicina comunque è molto toccante la scena in cui Nemo cerca di sferare il volto della figlia quando li chiude insomma in quella piccola nave non so come definirla no? quel distaccamento della nave principale che salva loro la vita di Jeanne Nadia Maria e King e poi finiscono sull'isola come vedremo e quindi è molto toccante il fatto che Nadia non abbia ancora capito che è il padre quindi Nemo è un personaggio che evolve e che si esprime in questo modo molto misurato perché in Nemo c'è questo cortocircuito tra il senso di colpa l'amore che aveva sepolto perché pensava che tutti fossero morti della sua famiglia cosa che invece scoprirà non essere vero una domanda mi farei ed è forse questo è un problema della narrazione se vogliamo fatto che non ci spieghino come Nadia si sia persa ok l'imperatore sta con Gargoyle quindi c'è un legame con Gargoyle la moglie è morta perché è morta e Nadia è sopravvissuta alla Torre di Babele 13 anni prima chi l'ha portata via si può immaginare che alcuni sopravvissuti si siano spostati nel mondo però non c'è il background di Nadia questo è grave però molto toccante alla scena Nadia capisce che è suo padre e quindi molto molto intenso io chiuderei qua 28 minuti per 3 episodi è bello tosto più degli altri però c'è tantissimo a dire c'è stato tantissimo da raccontare ah una cosa che me l'ho dimenticato un altro indizio per Nadia ma anche per noi ovviamente è che lei leggesse la targhetta sul Natulus avesse letto la targhetta sul Natulus che era di di Tartesso insomma di Atlantide ecco troppi indizi per Nadia un po' fessa lei anche Gianni in realtà l'avrebbe dovuto intuire forse il fatto che sia una bambina non è che la giustifica è un po' scema Nadia diciamola così fare le sue qualità sicuramente non c'è la deduzione io chiuderei qua ci vediamo al prossimo blocco narrativo che sarà meno interessante di quello che è che è il grande problema della serie e vi spiegherò tutto la prossima volta e se vi va supportatemi puntiamo i 1250 iscritti abbonatevi col tasto qua sotto al canale YouTube e sono su TikTok e Instagram avete tutto qua sotto alla prossima ciao